Preso al volo il nuovo sindaco di Portotolle. Buongiorno Roberto, come va il day after? Ho fatto una campagna elettorale light, speravo che la gente avesse capito quanto ho fatto in questi 5 anni, effettivamente hanno premiato la sua costanza e soprattutto 5 anni intensi, impegnativi, abbiamo ricordato che non vi siete fatti mancare nulla, tempeste, covid eccetera. Covid, guerra, non ci è mancato nulla, però credo che sia stato un premio nella presenza costante, nella vicinanza alle persone ma anche sicuramente agli obiettivi raggiunti, trasformando soprattutto quelle che erano le nostre disgrazie citate prima anche in opportunità, perché i risultati sono agli occhi di tutti e credo che, sì, ho detto una campagna light perché sinceramente speravo che sia per quanto mi riguarda, sia per il mio gruppo venisse riconosciuto comunque un lavoro di 5 anni importante. Quindi adesso si pedala ancora, lei ha impostato molto su un riconoscimento della sua città come punto di riferimento del delta per un turismo che deve crescere moltissimo, altri obiettivi per questi 5 anni? Sì, noi ci siamo già messi al lavoro perché tra l'altro ieri iniziava anche la commissione del mitratrice a fare la verifica per quanto riguarda le manierità delle spiagge, che è un argomento importantissimo proprio dal punto di vista turistico. Questa settimana sono già a Venezia per quanto riguarda anche il villaggio turistico e comunque per verificare la possibilità anche dal punto di vista urbanistico di accelerare i tempi. E poi naturalmente ci sono tutti quei progetti in cantiere che cercheremo di sviluppare con l'approvazione del consultivo che sarà breve. Complimenti Senaco. Grazie, gentilissimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.